...perdere Riccardo ha presciuto Eh, i tag! Dare... Non sei... non sei io più io meglio, credo Aglio, ci sono! Chi cazzo deve venire? Allora, perché? Vabbè, scusate Non lo so, sta arrivando Lorenzo Il mio commento è ipertecnico Eh, gli ho uno spavano, aspetta Iniziano comunque a guardarci Un lupo e un tartaruga molto strana Sono entrambi di colore molto... Sì, sì, è a metà zona e drone, insomma E... è a metà tra il Bronx E... la Somalia La Somalia La Somalia Ma noi siamo arrivati in mezzo a tutti Non è una sfida Esatto Grab Persa perché Si un cartel caster Poi non mi spende Ehm... Intanto, minchia, superi... Oh, non punisce l'up meme Ah, ha fatto un bexer proprio corto Ma ci sta infatti un corto All'altro... Cazzo usa Wolf e lo usa da macchissimo No, non è finito, si mischia Eh, vabbè, non mi piace sempre Però... ha sempre la carta traccola Dico qui Bop Non... non... perché non si vede Non si vede, ma non si può vedere No, no, so che c'è Muretti Che c'è Pinna che stanno guardando Non so, dove so Intanto... no Ma... Ah... ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ah, ah ah Che ripetere con riccardo edificare perché all'ottava volta più o meno capisce che no che vi ho due volte per Altro ricordiamo che conto uno nel slime Ricordiamo lo chiamiamo riccardo ma penso si chiamerà Portare a confusione una volta mi ha detto che può essere con tutto con rascos Errore da non fare. Esatto fondamentale Esatto Attenzione attenzione Quello mondo è un po' più in difficoltà Loro fincono questo primo game Esatto, vabbè c'è da dire quando giochi con loro personalità così sporchi E' un po' difficile E' un po' come la zoom eleven 2 ma c'è c'è un frost che si attacca in difesa c'è delle personalità Ma nel momento in cui Askus e Riccardo sono in difficoltà fanno la fusione tipo guarda le trance e diventano last card e combattono così Di nuovo giustamente se la va a giocare di nuovo Bowser Squadra che vince Vince Ma a dare che non è solo Bowser che non lo voglio essere giocato Allora Ha capito Schimp Un tempo stava lavando Grinit e non so che si è tornato a Bowser Attenzione Attenzione Bowser Co Stava meglio con Grinit Attenzione Per quanto mi riguarda Ma senti fatte perché mi piace Vabbè Unito ha senso i problemi Cristian spero che lo scopi Erisol Poi un ninja Ho capito che un ninja Io ho ancora il culo Quello che brucia la mia Con Grinit Abbiamo fatto l'altro Il jet bastitico Beh Non senti l'energia che mi dico Se lo cancro anche con la taffi Dal giorno di altro Grinit L'altro era un torneo Attenzione Attenzione Per quanto riguarda Vero Perché in realtà Quando prendi una leader con Bowser Non è molto sembrose Perchè ha un sacco di arma Mentre in maniera molto stupida Sì sì questo è vero E i personaggi grossi hanno Perfetto Perfetto E i personaggi veramente allucinati Vabbè Un pochino come questi personaggi A quella stazza dai C'è dove in realtà però dai dai due villain principali ma usare gun fail 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 oh come l'ho detto zero to death fail fail smash non è che gira cose non puoi contrastare non sto nemmeno quasi a me stavo tirando rising mi sto spezzando è un rising vero ma niente no stage è stato un tentativo di omicidio qua un tentativo di premere starter l r a più cut non muovo mi incaccia il tempo no non ha tentato l'abbiato che l'ha fune attenzione il positioning oh 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 no attenzione ok situazione anche abbastanza è fattibile fail fail stai cucinando madonna però in realtà ha fatto madonna che cosa ne avrebbe fatto è male ha fatto una scicca ha fatto 30% fino a minute whatever pop off pop off 3x 4x un altro 2x fix 5x 5x 6x ophile no la tua bellezza l'area continua con wolf comunque oh sto facendo un comment ricardo si incazza con tutti io lo squaliferei anzi sai che finì ma ora lo faccio vincere l'area attenzione però è partito moolto bello sta cucinando un ottimo piatto di pollo al chielo molto modesto però nello sfondo comunque non lo faccio non lo faccio forse vuole portare una cittadina no no non vuole ammazzare ma non si riusciva a filare no vabbè sta puntando l'area però significa ancora fare la cittadina no vabbè la cittadina ma c'è la sola non c'è la cittadina ha killato con la backtrou no vabbè la cittadina vabbè assurdo per fare il finito si eravamo sempre cittadino non si sta all'amorendo vuole portare lo spinimento l'avversario oppure sta deambulando bowser si fa approcciare ricardo intanto si tenda a custom combi se la dritta cerca di vincere una attenzione attenzione rubare pitch non ci basta per rubare anche la partita per rubare anche la pensione l'ha trattato la strada per 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 la strada e il punto di zucca ah ok si si tratta è proprio un ignorante che sta facendo il cast La tratta è incredibile, è taunta per portare lo spinimento, così approccia Il tiro è la situazione dell'aver un po' Diciamo che il mindset è molto importante Ovviamente chi non riesce a killare buzzer di bastamento e smash tirato su hitbox La tratta è molto importante Però è fade Mi sa come era più onta No ma secondo te affarcare lì non lo so Up match, lo preleva ma non killa Madonna Conce, un Asmus 3 0 9 2 2 2 2 2 2 2 2 Ah è 25 Eh si Ok, sono appena arrivato Ho perso Ero a costruire il futuro Me ne sono andato prima per vedere la città di giocare a Smash Io ho schifato la scuola guida Se lo metto di mano Senza avvisare Oh shit Boh io ho fatto alla mia professoressa scusi un impegno Ho guardato un bel male ma me ne sono andato uguale Fai bene fai bene Allora Cambiato no skin quella di prima hai messo Si Penso Fail sul wall Così in faccia Rising fail Sono molto più apuritilissimo adesso No penso No penso che siano uguali No io ho visto un più velocezzato Ah tu dici che sono più velocezzato Si si Adesso da una parte c'è uno che letteralmente ha un passo dalla vittura Dall'altro c'è uno che ha un passo dalla vittura Dall'altro c'è uno che ha un passo dalla rampita Ah certo Un più addore Diciamo che una adesso ha paura di approcciare e l'altro no Si si è tipo una rucca Si è tipo una rucca Si è tipo una rucca Chi è in rucca e chi è in gara Non lo so solo chi No No Non lo so Sto facendo la ballata dei campioni di Breath of the Wild, non l'avevo ancora fatta Ehm, dodge posteeing Sì, primo tentativo Ehi, a quel cazzo la faccia Il mix-up Tenta un mix-up particolare Attenzione Aaaaaah, stai facendo la sede Ho fatto tutte quelle di me qua Faccio nell'ordine che ho fatto i piccolosi Oggi ho visto una cosa vicino al tappo di ciocchi Ho visto un traccio in guerra Ho visto un traccio in guerra Aspetta che c'è Christian che non me lo sapevo Aspetta No, scusate per te a scendettino Oh Questa è quella Ultima stop Possibile, questo che è un primo a coltanto Hai un culo Questa è il cinquantello per cento fratito Non è quella Questa è la Questa è la Questa è la È bella Mi sono tornato, mi aggiuro che sono appartita Ultima stop che ha fatto escare che possiede una forza ah beh beh attenzione da un tilt che vince l'interazione perchè da un tilt in Bowser questa ripeto rascosto questa pure no però però via i dei campionati situazione mooo che pausa tirava e girava esatto il problema è riuscire a killare Riccardo che sta muovendo un indietro alla pantalata dello stream simpson wave insieme quindi siamo già ecco e adesso è una situazione ah praticamente adesso è una situazione